Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Apriamo con un evento teatrale. Venerdì 17 maggio, presso il Teatro d'Accanto di Chignolo d'Isola, alle ore 21 e 30, andrà in scena lo spettacolo dal titolo La mia cara amica Gilda, tratto dall'opera di Marisa Tisti. La rappresentazione ha lo scopo di aiutare il Lions Club di Ponte San Pietro a raccogliere fondi per uno screening visivo per bambini. Sempre venerdì, a partire dalle ore 21 e 45, gli amati del rock non possono perdersi il concerto della band Le Maschere di Clara, che si terrà presso il Druso Circus, con Lorenzo Masotto al piano e al basso, Laura Masotto al violino e alla voce e Bruce Turri alla batteria. L'ingresso è riservato ai tesserati. Sabato 18, nel Centro Storico di Caravaggio, in occasione della 17esima tappa del Giro d'Italia, a partire dalle ore 22 si potrà rimanere svegli per tutta la notte, grazie a una serie di intrattenimenti in attesa del giro. Per il programma dettagliato, chiamare il numero 0363 356229. Gli amanti delle gemme hanno tempo fino al 5 giugno per non perdersi la mostra del gemmologo bergamasco Roby Spagnolo, dal titolo Dipingere con le gemme. La mostra è presso lo spazio espositivo Ima Goars, al campo del Ghetto Vecchio a Venezia. Chiudiamo ricordando che domenica 19 maggio, in Piazza Vecchia, a partire dalle ore 10 fino alle ore 20, si terrà l'undicesima edizione della Festa del Volontariato, con stand informativi, spazi espositivi, mostre, attività di animazione, spettacoli teatrali e molto altro. Grazie a tutti.